Nel giorno in cui l'Italia dà l'estremo saluto alla grande Nilla Pizzi, vincitrice del primo festival di Sanremo con la sua grazia di fiori allo stadio dei Marmi, ce ne sono pochi, anzi a dire il vero non c'è neppure l'erba al punto che se l'arbitro il signor Donati di Ravenna avesse fatto rimbalzare la palla forse avrebbe dovuto rimandare la partita a causa delle abbondanti piogge ma anche di un terreno di gioco ancora una volta inadeguato in questo acquitrigno mister Monaco privo di Gazzoli e Vigiani lancia Vigorito e Orlandi preferisce Merini a Cori e Conti a Redomi, il 4-3-3 della Carrarese gira che è un piacere e al quinto gli azzurri passano a condurre con una punizione tirata con il goniometro da Corrent, 1-0. Nonostante il vantaggio la Carrarese continua a fare la partita, all'ottavo un cross di Vannucci trova pronta l'incornata di Orlandi ma il portiere Liverani para in due tempi, un minuto più tardi l'estremo difensore abruzzese si trascina la palla fuori dall'area, punizione dal limite per gli azzurri, Gaeta batte contro la barriera, poi recupera, tira di nuovo ma a quel punto Liverani fara. Una partenza così raramente si è vista in questo campionato e al dodicesimo si capisce che non può durare. Anzalone compie inspiegabilmente sulla tre quarti un intervento da codice penale su Morfia e lo manda all'ospedale e così l'arbitro non può far altro che inviare anzitempo negli spogliatui il capitano azzurro. A questo punto Mariotti va a fare il centrale e quando c'è da difendere Orlandi si piazza in terza linea. Al ventunesimo Franchi si incunea in area sulla ribattuta della difesa Olivieri tenta una conclusione che viene deviata in angolo. Il pareggio è nell'area e sul successivo tiro dalla bandierina Franchi devia verso la porta, poi sfiora anche Rapino e la palla termina in fondo al sacco, uno a uno. A questo punto Monaco riassesta la squadra, inserisce Trocar al posto di Giovinco e rimette Mariotti sulla fascia e Orlandi a centrocampo. Per qualche minuto gli azzurri però continuano a soffrire. Al ventisettesimo un tiro da 20 metri di Falomi termina alto. Due minuti dopo Vigorito è costretto a intervenire di pugno per deviare sulla correre di Franchi un cross di Prizio. Attorno alla mezz'ora la carrerese riprende a giocare come sa e al trentunesimo c'è un assedio con tiri in rapida successione di Corrent, Orlandi, ancora Orlandi e poi Mariotti ma la palla termina infine alta. Passano due minuti e la carrerese torna in vantaggio. Gaeta entra in area, fa uno spettacolare doppio passo e viene steso. L'arbitro concede il rigore, lo stesso Gaeta si incarica della battuta e come va a finire è francamente prevedibile. Il segno è sempre lui per la quindicesima volta. Due a uno. La carrerese continua a spingere. Al trentanovesimo un incontenibile Orlandi viene fermato da rapino con un fallo da ultimo uomo ma l'arbitro estrae solo un cartellino giallo. Il secondo tempo ricomincia come è terminato il primo, ovvero con la carrerese in avanti. Al secondo doppio liscio della difesa ospite Gaeta tira botta sicura ma la palla viene deviata in angolo. Sugli sviluppi del tiro dalla bandierina è Merini a colpire di testa a cinque metri dalla porta ma la palla termina alta. Al quattordicesimo ancora un fallo da ultimo uomo del Celano, questa volta ai danni di Gaeta ma anche in questa circostanza il direttore di gara si limita al cartellino giallo. Un minuto più tardi lo stesso Gaeta, stremato, è costretto a uscire, sostituito da Pera e tutto lo stadio canta. Gaeta che fa gol, la curva esulta. Il Celano si rifa vivo al ventesimo, Franchi supera un avversario ma poi spara alto da venti metri. Al ventottesimo è di nuovo Orlandi a seminare il panico nella difesa ospite. Prima si mangia due avversari ma poi viene tamponato da quello più ostico, il campo da gioco e l'azione sfuma. Al trentanovesimo Benassi lancia millimetricamente Pera che fa tutto bene ma poi spara alto. Tre minuti dopo Liverani esce dalla porta inopinatamente e serve ancora Pera che però non riesce a concludere in fondo al sacco. All'ultimo minuto Vigorito prende la palla fuori area, l'arbitro concede la punizione ma il tiro di Barbetti termina troppo alto. La Carrarise in dieci uomini per quasi tutta la partita vince e convince. Il Carpi però espugna Pogibonsi e rimane a più cinque. E allora, tornando a citare Nilla Pizzi, grazie dei fior, per festeggiare una sofferta e meritata vittoria. Per il momento però le opere di bene rimangono in Emilia.